Buongiorno, innanzitutto io rappresento il Molino Scoppettuolo e volevo ringraziare chi ha voluto la nostra presenza qua, i maestri Paco, Linus e Enzo Fiore per quanto riguarda il Guinness della pizza e un ringraziamento volevo farlo anche al titolare del Molino Scoppettuolo nonché capo Mugnaio, Ciriaco Scoppettuolo che non è potuto essere qui oggi per motivi di lavoro ma che ringrazia e saluta tutti con affetto. Il nostro Molino produce farine di grano tenero, è iniziato diciamo maggiormente con la produzione di farine rivolte alla panificazione, ai tarallifici, biscottifici e la linea pizza è sempre stata tenuta in considerazione ma non è in maniera privilegiata. Da un po' di anni abbiamo rivolto la nostra attenzione proprio sul settore pizzeria e creando anche un'associazione, l'associazione Grani Tradizionali Italiani, mi porta proprio a valorizzare il Made in Italy e da un po' che abbiamo creato la nostra linea, l'Oro di Irpinia che è prodotta con grani provenienti proprio dall'Arto Irpinia, integrata ovviamente a dei grani nazionali che abbiano comunque delle caratteristiche proteiche che vanno a raggiungere il giusto valore proteico che serve per la realizzazione del prodotto finito.